Sono sei le personalità che con il loro impegno nella propria professione si sono contraddistinte nella promozione della sicurezza sul lavoro, nell'integrazione dei disabili e nella ricerca medico-scientifica. A ricevere il premio Anmi il 2014 sono stati l'operaio sopravvissuto all'incendio ThyssenKrupp, Antonio Boccuzzi, il chirurgo paraplegico Paolo Anibaldi, il professor Antonio Papisca, il medico piacentino Franco Pugliese, l'insegnante Paolo Tavaroli e il giornalista Franco Bonprezzi. Al termine delle premiazioni il cabarettista Franco Aurelio è stato protagonista di uno show tra musica, poesia e impegno civile. È sicuramente un momento molto importante per l'Anmi in generale ma soprattutto per l'Anmi la Picenza. Noi con questa manifestazione andiamo ad attribuire un riconoscimento a personaggi impegnati nel mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e per quanto riguarda i diritti in generale. Perché si fa questa manifestazione? Per sensibilizzare su quello che è il problema della prevenzione il modo di fare una cultura diversa e sensibilizzare le persone in modo che il sistema prevenzione diventi uno stile di vita.